Benvenuti cari telespettatori, e cari telespettatrici per questa nuova edizione delle Valle Foglia e Pian del Bruscolo Magazine. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione, oppure all'email vallefoglia-rossinitv.it. Valle Foglia e Pian del Bruscolo Magazine, che apriamo parlando della frazione di Padiglione, dove il Comune di Tavulia ha organizzato un'importante opera di pulizia e di sviluppo di videosorveglianza su un parco che da tempo presenta diverse problematiche. Vediamo. Ci troviamo questa mattina nel parco giochi a fianco della scuola elementare di Padiglione per una problematica che da tempo, da ormai qualche anno, viene riscontrata dai cittadini di Padiglione. Ovvero che i ragazzi e i bambini, spesso di notte o di sera, lasciano in giro cartacce, bivacchi, lattine e altri numerosi rifiuti, oltre ad aver dato fuoco anche a delle panchine, a dei tavoli, quindi i problemi sono tanti. Qui presenti oggi l'Associazione del Verde, un'associazione che da tempo, da anni, ormai sotto la guida del Comune di Tavulia, sta cercando di pulire le zone del territorio. Presente qui anche il vice sindaco di Tavulia, Laura Macchini, che ha risposto alle nostre domande in merito a come potrebbe essere risolta questa problematica. Abbiamo organizzato in tempi record questo evento che abbiamo chiamato Un Comune più Pulito. È un titolo che nasce da qualche anno fa, prima della pandemia. Un gruppo di ragazzi del nostro Comune hanno deciso di andare frazione per frazione tutti i sabati a pulire scarpate, fossi, parchi. L'abbiamo fatta, come dico adesso, in maniera molto repentina, dopo gli ultimi fatti che sono accaduti qualche giorno fa. In realtà sono fatti che vengono perpetrati e vengono continuamente visti in questo parco, soprattutto perché, come vedete, è molto carino ma si presta molto bene. È un parco che di sera è abbastanza buio, è riservato, le scuole sono chiuse. Diciamo che diventa terra, terreno fertile per queste baby gang e questi ragazzi che, insomma, si divertono a bruciare le panchine e il tavolino. E in più vediamo quanta sporcizia. Abbiamo raccolto non so quanti sacchetti di sporcizia, e soprattutto bottiglie di birra, lattine, tutto buttato giù nel fosso. Quindi vogliamo dare oggi, chiaro non risolviamo nulla, però volevamo dare un esempio e volevamo dire ai cittadini che noi siamo qua, che non abbandoniamo nessuno. Ho saputo per certo chi sta dando fuoco a queste panchine e sono bambini, ragazzi, 12-13 anni. Quindi qui io dico anche, lo so, qualcuno non starà bene, ma dove sono i genitori. A breve installeremo delle telecamere, un intervento che non è da poco, perché avendo diverse vie di entrata a questo parco, dovremo mettere diverse telecamere a un costo di 30.000 euro. Se questa fosse la soluzione del problema saremmo tutti molto contenti. Io ho paura che, sì, sicuramente non verranno più qua, ma andranno in altri posti dove trovano comunque zone meno utilizzate. Di tutte le frazioni del comune di Tavuglia, Padiglione è quella che negli ultimi 20 anni ha avuto veramente un'esplosione a livello di edifici, a livello di costruzioni. Tant'è che si parla di Padiglione, il centro vecchio, vecchie famiglie, è tutta una parte nuova, dove ci sono tantissime abitazioni e quindi altre tante famiglie. È chiaro che questa integrazione negli anni, non posso dire che non ci sia stata, ma è in maniera sempre molto lenta e mai pronta a quelle che sono le esigenze. È stato costruito per 20 anni senza dare nessun servizio, senza pensare di costruire un bar piuttosto che un punto di aggregazione. Noi con la nostra amministrazione, ormai l'amministrazione Panorucci ha sette anni di vita, abbiamo cercato veramente di rincorrere e di dare delle soluzioni a una problematica che ci siamo trovati. Scontenti di questa situazione sono soprattutto i cittadini di Padiglione, infatti sentiamo cosa ci ha raccontato una madre ai nostri microfoni. Oltre all'associazione di volontariato del verde e alle figure istituzionali erano presenti anche qualche cittadino che hanno dato una mano nel raccogliere quelle sporcizze che erano state lasciate per terra e nel fosso a fianco del parco giochi delle sporcizze che sono solamente la punta dell'iceberg di questo problema che da anni è presente qui a Padiglione. Qui diciamo questo parco che è un bellissimo parco perché ci sono anche due campi da calcio, quindi mio figlio ha 14 anni, con i suoi coetanei vengono qui a giocare per dire calcio, però tante volte è capitato magari dei gruppitini di ragazzini, ma anche piccoli, perché è capitato anche ragazzini piccoli, mi hanno raccontato anche proprio i cittadini che vanno a fare i dispetti, hanno rotto tutta la staccionata, l'hanno buttata di sotto, rompono i segnali stradali, li tirano di sotto, è capitato, ma questo anche in pieno giorno. In più una sera mio figlio che era qui nel parco, era uscito verso le 5 e mezza, è stato aggredito da una ragazza ubriaca di 15 anni, poi è arrivato il fratello di 19, e è stato aggredito per una banalità, per una futilità, io sono sincera, lui mio figlio non si è difeso perché io gli ho insegnato a rispettare le persone e rispettare le donne, perché è stato aggredito da una donna e da lì sono intervenuta io, sono nata ai carabinieri, ho fatto una segnalazione, spero che chi gli succeda lo faccia perché se noi non ci mettiamo tutti insieme queste cose non riusciremo mai a debellarle, voglio dire, e più non solo, questo è sempre stato un parco dove i ragazzini venivano, i bambini, si conviveva insieme, negli ultimi 5 anni so che addirittura i bambini non li portano neanche più qua, cioè è un peccato, perché c'è la scuola, non ci sono i pericoli, cioè è veramente un peccato, non so, bisognerebbe fare qualcosa, ecco, io più di segnalare, di fare, non so, ecco, spero che gli altri facciano la stessa cosa. Avrebbe qualche consiglio per il Comune su come intervenire? Allora, io la banchetta magica non ce l'ho, però io sono un genitore e mio figlio, io per dire, l'ho avvisato, perché io quando è successo che è stato aggredito, io mi sono assicurata se era vero, no, se era vero, c'erano dei ragazzi, gli ho chiesto com'è andata, non è che io a spada tratta ho creduto a mio figlio o credo agli altri, io prima voglio sapere, ecco, io secondo me, soprattutto per i minorenni, intervenire con i genitori, cioè non ci sono le famiglie dietro, molti sono abbandonati a se stessi, è logico che un ragazzino abbandonato a se stesso fa quello che gli pare, purtroppo al giorno d'oggi non si dicono più no ai figli, è quello il problema, bisogna dire i no e parecchi no. E passiamo ora a due notizie di cronaca, mercoledì è stato infatti condannato a 5 mesi di carcere un uomo di 45 anni residente a Pesaro, che qualche giorno fa guidava un furgoncino andando contromano su una rotatoria di Montecchio. L'uomo, visibilmente ubriaco, è stato fermato da due signori marocchini, i quali gli hanno prima sfilato le chiavi e poi hanno contattato le forze dell'ordine. All'arrivo dei carabinieri sul posto, il 45enne si è dimenato e poi ribellato, finendo per colpire i militari. Militari che a quel punto hanno arrestato l'uomo per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Oltre ai 5 mesi di carcere, il giudicato è stato condannato a 150 euro di risarcimento danni che saranno destinati al fondo per gli orfani dell'arma. La sentenza per la guida in stato di ebrezza non è ancora arrivata. Domenica sera invece è scoppiata una rissa nel corridoio della linea verde, l'autobus che collega Pesaro a Urbino. Un parapiglia acceso da un uomo di circa 40 anni e che ha poi coinvolto altre tre persone. L'uomo pieno di alcol in corpo è salito sul pullman assieme ad un amico in una fermata di morciola e una volta dentro l'autobus si è rifiutato di indossare la mascherina, obbligatoria per salire sui mezzi pubblici. Al che l'autista gli ha ordinato di mettersela ma il quarantenne non ha voluto ascoltarlo infuriandosi e imprecando contro il trambiere. Dopodiché la corriera è ripartita, l'uomo si è accomodato nei posti in fondo e ha iniziato una lite con un ragazzo di 20 anni, sfociata poi in una vera e propria rissa. Pugni e spintoni all'interno dell'autobus fino a far fermare il mezzo sul ciglio della strada in prossimità di Gallo di Petriano. Al parapiglia si sono aggiunti anche l'amico del quarantenne salito insieme a lui e un altro giovane intervenuto per difendere il ventenne. Altri viaggiatori sono accorsi per far scendere dal bus i due uomini che una volta che le porte si sono richiuse e l'autobus è ripartito hanno continuato a scagliare dei pugni lungo la fiancata del mezzo pubblico. E tra i tanti temi trattati nell'ultimo consiglio dell'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo che si è svolto mercoledì sera si è parlato anche di un ampliamento delle tre strutture principali di Pian del Bruscolo ovvero la piscina, la scuola media e la scuola materna. Sentiamo ora le parole del presidente Palmiero Ucchielli. Abbiamo approvato un protocollo d'intesa con la provincia che mette a disposizione per 33 anni l'intera area di proprietà della provincia a disposizione di tutti i servizi che devono nascere e quelli che ci sono già lì nell'area di Pian del Brusco che è un'area che abbraccia 5 o 6 comuni per circa 50 mila abitanti. Prevede il potenziamento del nido da 120 posti a 180, 60 posti in più, quindi l'ampliamento. Le aule interdisciplinari, 8 aule in più per cui riguarda la scuola media, prevede il raddoppio della piscina e previsto un campo per l'atletica, campo di calcio di natura sovracomunale programmato insieme alla provincia che ci consente di attivare le risorse che ci sono a disposizione dalle norme europee, nazionali, regionali. Dove è nata la necessità di ampliare queste strutture? Quella è un'area che ha più di 50 mila persone residenti, poi vengono in piscina anche dai comuni confinanti e anche dell'Emilia Romagna, sono oltre 4 mila persone che vanno in piscina quindi c'è la necessità di ampliarla. La scuola media è in crescita, quella in territorio è tutto in crescita. Il nido sono 120 bambini che consente quel nido che è aperto dalle 7 del mattino e del 7 di sera di lavorare, se ha la fortuna, marito e moglie. Quindi un potenziamento per altri 60 posti perché cresce quel territorio, perché c'è lavoro, ci sono circa 70-80 mila metri di cappannoni nuovi per centinaia di posti di lavoro nuovi e quindi deve avere i servizi. Poi abbiamo approvato nella giunta comunale di Vallefoglia una ciclopedonale con la provincia, la regione per realizzare oltre i 20 chilometri di piste ciclopedonali che abbiamo già a Vallefoglia, circa altri 5 chilometri di piste ciclopedonali che dovremmo curare l'acquisizione dell'area, realizzarle e poi gestirle, farle funzionare come tutte le altre. Quindi un messaggio turistico, ambientale, culturale e importante di benessere della comunità dei cittadini di quella vallata. Tempistiche per la riqualifica di quella zona, quella di Pian del Bruscolo? La tempistica, cerchiamo di concorre alle opportunità finanziarie che l'Europa ha messo a disposizione che sono uniche nel contesto nazionale. Speriamo che finisca ieri l'altro e non domani la guerra, si possa ritornare a una situazione di normalità e quindi avere le risorse per potenziare tutti questi servizi. E a Vallefoglia si sono appena conclusi i lavori del nuovo camminamento pedonale in Piazza Europa a Morciola. L'intervento che ha interessato il rifacimento del nuovo marciapiede ha malorato nella parte retrostante la palestra comunale, ha comportato una spesa di circa 21.000 euro. Un costo che oltre alla pavimentazione comprende anche l'installazione di quattro nuovi lampioni. Torniamo a Tavuglia perché lunedì 21 di marzo verrà celebrata la seconda giornata nazionale della gentilezza dei nuovi nati. Un momento importante per l'accoglienza istituzionale nella comunità dei nuovi nati nell'anno 2021. Sarà un'occasione di festa per tutti i cittadini, un'iniziativa con lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita e i sentimenti di speranza, soprattutto in un periodo complicato come questo. Chiunque vorrà potrà partecipare a questo evento che si svolgerà dalle 15.30 presso il centro di aggregazione Linea di Confine a Riosalso, nel quale si potrà creare insieme un murales a ricordo della giornata con l'obiettivo di costruire gentilezza. E concludiamo il nostro Tg parlando di sport e partendo dalla pallavolo. La Megabox Vallefoglia è infatti uscita sconfitta dalle palacarnaroli di Urbino contro il Novara per 3-7-1. Quarta sconfitta nelle ultime quattro per la squadra di coach Bonafede che ora si trova a tre punti dalla zona retrocessione. Fondamentali le ultime quattro partite per cercare di ottenere la salvezza. Domenica 20 marzo la Megabox si troverà davanti ad un'altra sfida complicata facendo visita allo Scandici. Passiamo ora al calcio locale con l'Atletico Gallo che ha ottenuto il dodicesimo pareggio in stagione fermandosi sul punteggio di 1-1 sul campo della Biagio Nazaro. Nel campionato di promozione ottima vittoria del Valfoglia che domenica pomeriggio è riuscito a battere la filo tranese per 1-0 confermandosi dentro alla zona play-off. Secondo 0-0 di fila invece per il K-Sport Montecchio fermato in casa della Passatempese. In prima categoria è arrivato un pareggio per 1-1 per l'Atletico Tavuglia che nel proprio campo è stato bloccato dal Santa Veneranda. Ennesimo successo del 2022 invece per l'Osteria Nuova che da quando è ripartito il campionato ha raccolto 5 vittorie e un pareggio. 0-1 anche sul campo della nuova Real Metauro portandosi ora a soli 3 punti dalla zona play-off. E con lo sport si conclude questa nuova edizione delle Valle Foglie Pian del Bruscolo Magazine. Vi ringrazio per averci seguito. Vi rinnovo l'appuntamento a venerdì 25 di marzo e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.